12 a 16 che dobbiamo fare? sta chiamando il collega io ho detto ora interrompiamo siamo sotto registrazione, lei ha già avviato la registrazione? si, si allora chiamiamo l'appello così poi richiamiamo gli assenti allora, Mattagliano assente Giaconia assente Arcoleo assente Di Pisa assente Ferrandelli presente Ficarra consigliere Ficarra c'è stato qualcosa perché mi pare che era presente Forello assente Lomonaco presente Meli assente Susino assente Russo assente Tantillo se sono io vuol dire sono presente Gerarda assente quindi postatata la mancanza del numero scusi possiamo richiamare scusi mi deve scusare un altro giusto chi presiede la saluta presiede la saluta il consigliere iniziano per voti il collega gelarda si sta collegando quindi signora se non le dispiace siccome presiedo io quindi siccome presiedo io se non le dispiace lo devo dire io se manca il numero legato lei mi dice lei mi comunica quanti sono e io dico no per una questione di irregolarità non peraltro per la irregolarità della seduta è giusto mi pare che no no ha ragione sono cinque collega di pisa aspetta il quindi sono cinque collega Ficarra l'appello è stato chiamato quindi prendiamo atto che lei è presente chiaramente l'avranno chiamato ma lei in quel momento si vede che non ha risposto quindi risultano risultano solo cinque quanti presenti sono? cinque? uno due tre quattro cinque quindi non essendo stato raggiunto il numero legale la seduta è chiusa perché siamo cinque va bene ok tre va bene grazie arrivederci arrivederci arrivederci